Benvenuti a Terra Madre, torna la birra artigianale con Sola Lamà, nome storico della birra artigianale in Val Susa. Benvenuti. Grazie Dario. Riconfermati maestro del gusto, quindi complimenti. Grazie. E cosa significa per voi un birrificio artigianale essere maestro del gusto? Beh, innanzitutto tanto orgoglio, per cui ci fa piacere un riconoscimento prestigioso. Tra l'altro noi siamo maestri del gusto dall'origine, quindi dalla prima edizione, quindi soprattutto questo, sì, orgoglio, orgoglio piemontese. Senti, prima dell'intervista una chiacchierata, noi ci conosciamo da tanto tempo, mi dicevate che Sola Lamà, ridendo e scherzando, sono 25 anni che producete birra. Mi fai un veloce bilancio di questi 25 anni. Sì, allora noi siamo nati nel 1999, quindi agli albori del movimento della birra artigianale, in Val Chiavenna però. Ci siamo spostati cinque anni dopo a Vaie, perché a Vaie c'è la fonte di San Michele. Quindi questa è un po' la nostra firma, la caratteristica della nostra birra, utilizzare quest'acqua di montagna, che è tre gradi francesi per dire, per cui partiamo di lì. Quindi è quello che ci dà il terroir della nostra birra, che invece, sapete che la birra, utilizzando prodotti secchi, può comprare in tutto il mondo, invece noi ci sentiamo legati al territorio per questo motivo, perché noi utilizziamo acqua purissima di montagna. Esatto, l'acqua è il terroir della birra, cioè che rende unica una birra è sicuramente l'acqua ed è per questo lo spostamento in Val Suda. Grazie mille di essere stato con noi, buoni 25 anni e buona terra madre. Festeggeremo con un boccale di birra, senz'altro. Grazie Dario.